Temptation Island Temptation Island, è guerra social tra Francesco, Selvaggia e Camilla Temptation Island, Francesco Chiofalo lancia uno scoop e Camilla mangia pello e Selvaggia Roma reagiscono. A distanza di mesi da Temptation Island, è guerra tra alcuni protagonisti. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo, Camilla mangia pelo e Selvaggia Roma. Il tutto è iniziato quando su Instagram, il Chiofalo ha condiviso dei video riguardanti una ragazza misteriosa, che ha preso parte al programma. La giovane in questione, secondo Francesco, si dichiarerebbe single, ma in realtà non lo è. Inoltre, lancia un importante scoop, rivelando che questa ragazza è incinta. Ed ecco che sia Camilla che Selvaggia si sentono tirate in causa. Entrambe dichiarano ai propri follower di non essere in dolce attesa, come dichiara Francesco. Ma non è finita qui. Il Chiofalo pare sia arrabbiato con la Roma. . Secondo quanto lui stesso dichiara, Selvaggia avrebbe scritto ad una pagina di Uomini e Donne, inviando delle foto con alcuni like scambiati tra Francesco e Desiree Maldera. . Qualche giorno fa, la Roma avrebbe anche chiamato lex tentatrice proprio per scoprire se tra lei e il Chiofalo fosse nato qualcosa. . La guerra social prende così inizio. . Francesco Chiofalo parla ancora di Selvaggia Roma su Instagram. . . Ragazzi devo dire la verità, che è un uomo che mi campa. È così che Selvaggia risponde alle accuse di Francesco, rendendo partecipe anche un suo amico.Ma vi rendete conto le cavolate che dite? Ma poi la gente ha altri problemi. . . Il Chiofalo, però, non si perde danimo e continua a parlare della Roma. Secondo voi dietro il contatto fa che che mi ha segnalato la pagina di UE e di, che è Selvaggia? Inoltre, Francesco dichiara di avere tra le mani le prove per confermare ciò che dite. . 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